Sono Rita Sorichetta, sono la titolare insieme a mio fratello del Lobby Flora Garden Center di Roma. Siamo presenti sul mercato di Roma da tantissimi anni, avendo ereditato questa attività da mio padre, che era produttore di piante ornamentali, sulla via Aurelia. In seguito abbiamo deciso di espandere l'attività fornendo anche dei servizi, allestimento di terrazzi e giardini, impianti di irrigazione, parchi, tutto ciò che può interessare il giardinaggio. Nello stesso tempo il Gardner fornisce anche, oltre le piante, anche tantissimo materiale di decorazione, vasi, vasi artistici, vasi moderni, vasi tradizionali della migliore tradizione italiana e toscana e soprattutto anche una buona assistenza a livello fitosanitario per chi avesse problemi con le piante, palattie, insetti che possono affliggerle. Siamo venuti qui in questa nuova sede dal 2013 e qui diciamo che ci siamo, tra virgolette, scatenati, perché avendo uno spazio superiore a disposizione, una serra molto alta, ci siamo dedicati alla coltivazione di piante anche abbastanza rare, non molto comuni e soprattutto cerchiamo tuttora di dare un servizio il più possibile buono al cliente che entra qui. Per quanto riguarda il giardinaggio, impiantiamo prati, campi da golf, tra le ditte sementiere per la fornitura di semi da prato ci siamo fermati sulla Bottos, che ci fornisce diversi tipi di essenze che possono appunto essere adattati a diversi tipi di terreni e di esigenze da parte dell'utente. Per quanto riguarda le concimazioni appunto dei prati, la stessa Bottos. La nostra principale passione sono le piante, le piante di tutti i generi, piante anche esotiche, quindi abbiamo una serie di forniture che vengono un po' non solo da Roma o nei ritorni di Roma dove ci sono dei bravissimi vivaisti, ma anche dal nord Italia, ad esempio dal lago di Garda facciamo arrivare tutte le azalee, le camelie, gli aceri rossi, gli aceri verdi ornamentali, bellissimi. Dalla Sicilia abbiamo degli ottimi fornitori di agrumi, agrumi di ogni tipo, non solo limoni, anche quelli un po' particolari che possono essere tenuti solo a scopo ornamentale. Abbiamo le rose della Mayande che vengono dalla Francia, abbiamo le rose di David Austin dall'Inghilterra e tante, tante, tante piantine che importiamo dall'Olanda. Questo è quanto, questo siamo noi, ci avvaliamo di uno staff validissimo da tantissimi anni di 17 persone che sono appassionate come noi, che stanno qui con tanto amore. Siamo qui, viviamo in mezzo alle piante, ci piacciono tanto e spero che piacciono anche a voi. Visitateci, venite a trovarci.